allora io lo so che non saperebbe nemmeno dirlo che sapete già tutto ma per chiarezza facciamo il punto di seguito troverete la nostra gallery ricca di grafiche riproduzioni di grandi opere fotografie e ovviamente alcune saranno più indicate per radiatore a modello verticale e altre per quelli orizzontali noi vi proponiamo l'immagine nella sua interezza ma è chiaro che in base al modello scelto a rapporto base per altezza le immagini verranno inquadrate e ritagliate questo verrà fatto dai nostri grafici con la massima attenzione e all'acquisto riceverete una preview via mail del risultato finale controllate il link con le note sulle proporzioni per farvi un'idea con gli esempi dei tagli stessa cosa se volete scegliere una vostra immagine per personalizzare il radiatore al factory prima controlleremo se la risoluzione si presta all'ingrandimento desiderato poi procederemo al taglio e alla preview ah già ma ve l'abbiamo detto che potete scegliere una vostra fotografia un disegno un'immagine qualsiasi stampabile per ricoprire il radiatore al factory questo perché vogliamo darvi un servizio salto reale e non solo per le misure del vostro radiatore ma anche per l'immagine che vi verrà stampata sopra desiderate avere sott'occhio quotidianamente una persona cara un paesaggio oppure uno scatto che riporta alla mente momenti importanti noi li stampiamo sulla pellicola e copriamo il radiatore a tutta altezza e larghezza e non dimentichiamo che la personalizzazione del radiatore è reversibile ossia se ad un certo momento i vostri gusti estetici non rispecchiano più l'immagine che avete scelto sarete in grado di staccare la pellicola dalla superficie del radiatore con il semplice utilizzo del fondo domestico si proprio l'asciugacapelli il risultato sarà di avere un radiatore art factory con la verdiciatura bianco originale di fabbrica protetto fino allora dalla pellicola e come nuovo tutto chiaro vero vabbè se non è chiaro chiamateci ma che può finire i miei la la Grazie a tutti.